Nome e cognome? Gigi Soldano. Professione? Fotografo. Gigi, ti abbiamo sempre visto alla parete di Dakar. Quando è che hai cominciato? Ho cominciato anch'io nell'85, la mia prima gara, dopo aver provato, come si dice, l'Africa nell'altro rally, il rally dei faraoni, che scoprì per caso questo mondo, perché ai tempi lavoravo per la pool communication. Mi mandarono in Egitto perché c'era da seguire una gara, era un rally, ma era nel deserto, con auto, moto, camion. Dici, ma cosa sarà mai questa cosa qui? E andai così e li scoprì questo mondo. Noi giornalisti ci muovevamo in aereo, invece tu eri sulle piste con la tua automobile dall'inizio alla fine. Tosto? Certo, tosto perché soprattutto nel periodo africano la pista era l'unica strada che si doveva fare, non c'erano alternative. Spesso, soprattutto negli ultimi manifestazioni, si passava anche con l'asfalto, quindi potevi tagliare, potevi fare i percorsi alternativi. Allora la pista era l'unico mezzo per raggiungere la fine della tappa e per noi fotografi, giornalisti che fossimo, era una gara nella gara perché oltretutto dovevamo precedere sempre i concorrenti e più o meno a metà gara inseguirli. Perché tu partivi dal bivacco, quando arrivavano gli ultimi piloti tu partivi. Praticamente, quindi tu fai conto che dipendeva poi da tappa a tappa che cosa ci fosse il giorno dopo, se c'era un trasferimento prima, se c'era la tappa subito vicina, perché anche quello era importante. Certe mattine avevi magari 200-300 km di trasferimento da fare per essere poi sulla prova speciale dove dovevi fare un certo percorso per arrivare nei punti più interessanti, che sapevi, non sapevi, era abbastanza complicato. Soprattutto nelle prime gare dove non avevi molto come riferimenti, avevi il roadbook, avevi qualcosa attorno simile alla bussola o cose di questo tipo, non avevi GPS, non avevi niente. Alla fine i piloti meccanici passavano la notte nel bivacco, invece tu spesso eri da solo nel deserto. Sì, raramente si rimaneva al bivacco perché dovevi partire prima, quindi l'arrivo al bivacco era semplicemente come momento di rifornimento generale, compreso quello dell'auto perché poi c'era da fare la coda magari per rifornirti, per catturare il bidone di gasolio o cose del genere. Rifocillarti e allo stesso tempo cercare, che era il nostro crucio principale, di fare in modo che andassero a casa i nostri rullini, cioè il nostro lavoro, che non sempre riuscivi a mandare e soprattutto quando terminava la settimana che sapevi che il giornale allora, tuttora però, lavorando per motosprint avevi una data di chiusura del giornale e quindi bisognava fare in modo che in qualche modo arrivassero questi vendetti rullini in Italia e non era assolutamente facile. Brutto dirlo ma una delle cose che facevi è andavi subito al centro medico per accertarti che qualcuno si fosse fatto male e che veniva rimpatriato e quindi c'era questa forma di fuorisacco a cui affidavi i tuoi rulli e inshallah come si diceva sperando che arrivassero in tempo. Il mal d'Africa ti ha preso? Sì, non so se definirlo mal d'Africa o un virus comunque di questo tipo. L'Africa è bella, ha dato tanto, va conosciuta, va conosciuta la gente dell'Africa e tutti questi aspetti qui sono molto belli, ti invogliono, uno dei miei cruci è di aver attraversato spesso l'Africa senza poter toccare con mano certe situazioni, certe realtà perché continui a muoverti quindi le percepisci e poi sei già da un'altra parte. Quindi quello ti invoglia idealmente anche a tornare in quei posti lì, cosa che oggi non so quanto sia fattibile tornare a Tumbuktu, a Niamei o a Guadagugu anziché a Gadez. Tu hai sempre curato con l'obiettivo della macchina fotografica ma anche con la telecamera le due anime della corsa, cioè tu eri capace di raccontare la gara e quindi l'impegno dei piloti ma anche tantissimo la popolazione, i bambini che giocavano con i loro giocattoli fatti in casa ispirati alla corsa, cosa ti rimane di quelle giornate là? Ci fu un messaggio all'inizio, lo diede proprio Thierry Sabine nelle prime, mi ricordo forse probabilmente nell'85-86, lui disse quando siete con la gente dite sempre bonjour e date la mano e questo per noi che arrivavamo in Africa così non era una cosa naturale, invece era quello il messaggio, cioè capire la gente, cercare di dare confidenza in questo senso perché spesso potevamo quasi essere dei marziani perché era la prima volta che questa gente vedeva magari, non dico un'auto ma comunque un elicottero che atterrava o delle persone vestite così da mezzi guerrieri, con questo spirito forse di passare sopra ogni cosa, ecco perché una delle critiche poi si riceveva era quello di passare e non lasciare nulla, ecco. Senti, il ricordo più bello che hai della Paris-Dakar? Di quella gara? Di quella gara ce ne sono tanti, di belli e di brutti anche, no? Di bello forse la possibilità che ho avuto un anno di attraversarla in elicottero, contrariamente al mio programma di lavoro, quell'anno filmavo, era il 92 la Paris-Dakar, posso dire di aver attraversato dall'Algeria al Sudafrica, la città del Capo, in elicottero tutti i giorni l'Africa ed è una cosa particolare, non so come si possa fare oggi una cosa del genere. E se n'è qualcuna brutta che ancora ti dà gli incubi? Puoi immaginare, la morte di amici, concorrenti e quella è stata terribile. E d'altra parte il bisogno di andare era talmente forte che molti ripartivano in condizioni terribili, qualcuno ripartiva addirittura il senso inverso, ti è capitato di parlare con loro? Cose di ogni tipo, compagni di viaggio che fortunatamente sono ancora qua con noi oggi, ma che credo siano morti un paio di volte, nel senso di rimpatri nella carta stagnola come li mettevano e li mandavano a casa. Il nostro amico Ciro De Petri potrebbe raccontarle tante in questo senso. L'immagine di tue, foto e riprese, bellissime, ne ricordo tante, ma quella che ti è rimasta nel cuore invece come autore qual è? Eh, ce ne sono tante, ma forse la vittoria di Cagiva del, aiuto? 90, ecco, il fatto di ritrovare gli amici sul mare così, quelle immagini sono molto belle. Fa effetto vederti con un gilet che assomiglia tantissimo a quello che portasti per la prima volta. È una lunga storia questo gilet, questa è un po' la parte finale di questo racconto, nel senso che è nato proprio così, sulla carta con Lino Dainese, ai tempi, disegniamo questo gilet proprio per portarlo in Africa e erano i tempi dei primi materiali particolari, ma c'era la pelle, c'era il Gore-Tex che arrivava, ma preparammo questo gilet con queste grosse tasche che vedi sono rimaste un po' nello spirito, dove mettevamo i rullini da esporre ed esposti, quindi vi ricordo che c'erano addirittura delle protezioni per i raggi X e per gli aeroporti, la tasca abbondante qui per metterci i nostri appunti, una tasca interna dove mettevamo portafoglio, per dire, perché questa era un po' la nostra casa alla fine, quindi doveva avere tutto sotto mano. Ed qui nacque anche poi un'evoluzione di una giacca, sempre con questo materiale, che veramente era la nostra casa. Mi ricordo un anno che perdemmo l'auto dopo due o tre giorni e rimanemmo a piedi. E mi ricordo che quella notte dormimmo così sotto le stelle, sotto l'ala di questo aereo nell'aeroporto e la coperta fu proprio la giacca d'Aidese che mi riparò. Tu che non hai mai smesso di seguire questi rally, anche in Sud America, fino a tre anni fa c'eri, che quali sono i valori che ancora resistono nel tempo? Resiste la competizione, questa è la base, no? Resiste la voglia di dargli il gas in assoluto ed è rimasto quello spirito, io lo definisco dacariano, ma poi di fatto si chiama ancora Dakar quella gara, no? Quindi è una competizione ancora, secondo me, unica, perché vive sulla durata soprattutto, quindi questa possibilità di... ed è un po' un calcolo che tu fai consapevole che può succedere tutti i giorni qualcosa, non di brutto, ma che di fatto ti sposta nella classifica e solo con questa lunghezza che ha questa gara e quindi è bella, è rimasto quello spirito. Certo, manca la navigazione. Parlando di moto, poi di auto. Parlando di moto, manca la navigazione, quindi sicuramente manca un pezzo. È cambiato tutto, in quel senso lì è radicale il cambio. Sarebbe bello ritornare anche a quel tipo di orientamento, non so se è fattibile evidentemente, perché subentra un discorso della sicurezza, di tutto quanto. Quindi oggi sei monitorato, sanno dove sei in modo costante. E comunque il pilota ci dà tutto quello che ha sempre, tutti i giorni. È bello, è bello per quello. Per quanto siano cambiate le cilindrate, siano cambiati i tipi di mezzi, tutto quanto. Però fondamentalmente è quello. Grazie Gigi Soldano. È stato bello.